e finisce così allo sal Giuseppe Meazza a San Siro l'Inter vince 4 a 0 in casa contro Stella Rossa anche con un turnover l'Inter distrugge la Stella Rossa proprio in tranquillità assegno ragazzi l'Euro goal di Agancialanoglu su punizione bellissima poi segna anche Arnautovic quindi torna il gol Arnautovic ovviamente appena entra dalla panchina segna pure Lautaro Martinez e poi ragazzi partitone di Ita Remy primo gol in Nerazzurro sul calcio di rigore e compie anche due assist ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Javils oggi siamo qui ragazzi in un nuovo video siamo appunto qui nel Javils commento e commentare il post partita di Champions League di Inter Stella Rossa che finisce 4 a 0 per l'Inter poker nero azzurro ragazzi poker nero azzurro dopo il pareggio l'ottimo pareggio a Londra a Manchester contro il Manchester City arriva anche la prima vittoria in Champions da parte dei Nerazzurri e vincono 4 a 0 con una partita eccezionale della Stella Rossa quasi mai pericoloso pochissime azioni ha creato e tanti errori difensivi da parte della squadra serba prima di tutto ciò vi ricordo di iscrivervi di attivare la campana rimane da aggiornare tutta quanta settimana recuperate i scorsi e trovate qua sotto nelle schede a fine video e lasciatemi un commento qua sotto ditemi la vostra sulla partita se l'avete vista ovviamente ditemi in generale la vostra sotto nei commenti e vi ricordo domani post partita di appunto di Juventus di Lipsia Juventus quindi vi aspetto anche domani sera e poi giovedì live reaction della Roma quindi vi aspetto mi raccomando restate sintonizzate con la campana attivata così non vi perdete nessuna notizia su per quanto riguarda il mio canale appunto oggi l'Inter in tranquillità in oscillanza come si dice vince 4 a 0 diciamo prendendo appallonate lo Stella Rossa e tra l'altro facendo difiatare tanti disolari diciamo che ci si aspettava una vittoria simile mi aspettava un 2-3 a 0 ma addirittura 4 mi ha sorpreso ancora una volta l'Inter mi sorprende 4 gol non mi immaginavo facesse tutti questi gol però ci può stare in casa con Stella Rossa insomma è una squadretta con Stella Rossa è diciamo ostica andarla a giocare in trasferta però giocarla in casa è una partita abbastanza tranquilla ovviamente bisogna sempre non prendere nessuna gara sotto campo oggi l'Inter ha giocato determinata e ha vinto questa partita migliore in campo io oggi voglio da Taremi il man of the match ma bene tutti diciamo che bene o male bene Danfries bene Ciaranoglu bene Arnautovic bene Taremi bene Lautaro quando subentra bene la difesa diciamo che però la palma del migliore in campo la voglio da oggi a Taremi perché è stato decisivo su tre gol da parte dell'Inter c'è il suo Zampino su tre gol da parte dell'Inter c'è il suo Zampino quindi palma d'oro del migliore in campo ha appunto Medi Taremi e la sblocca praticamente l'Inter praticamente dopo 11 minuti arriva questo calcio di punizione pure in una posizione abbastanza difficile non facile ma Ciaranoglu si coordina mi ha ricordato quel Ciaranoglu ragazzi quando stava il Bayern Leverkusen che era forte poi giocava tre quartista all'epoca era veramente ogni punizione era quasi sempre gol me lo ricordo questi non tutti se lo ricorderanno ma Ciaranoglu al Bayern Leverkusen era una bestia e oggi ha fatto una grande partita dopo una partita opaca all'ultima partita di Ciaranoglu in campionato non è stata un'ottima partita anzi non mi è piaciuto oggi ha fatto un'ottima partita oltre al gol ha gestito bene ha dettato i tempi di gioco è stato comunque sempre nel vivo del gioco e è stato determinante anche lui per la vittoria dei Nerazzurri a Can Ciaranoglu la sblocca su punizione poi il gol della doppia arriva solamente al secondo tempo ma l'Inter già nel primo tempo poteva stare tranquillamente 2-0 perché ha creato veramente una mole di occasione pure Danfries è stato sfortunato perché ha avuto pure una di otto occasione nel primo tempo Danfries che purtroppo si mangia il gol però è stato determinante tutti i palloni aerei erano i suoi perché detesta li prende tutti quanti lui poi nel secondo tempo l'Inter che diciamo fa rifiatare i vari Mkhitaryan Bastoni e fa entra ovviamente entra Lautaro Martinez entra Frattesi entra Bissek e compagnia Bella e poi ragazzi il secondo gol arriva praticamente al minuto 59 la decida Arnautovic su questo pallone però ha dato il gol e qui il 90% del gol è il gol di Taremi bravo Taremi che riesce a riconquistare riconquista palla pallone perfetto al bacio e Arnautovic scusate ragazzi ho un po' d'allergia se ogni tanto faccio così serve questo pallone perfetto per l'attaccante austriaco dentro l'area si fa trovare pronto sul tap in sul cross di Taremi è il gol del 2 a 0 e poi ragazzi e poi ragazzi entra Lautaro e entra praticamente on file dopo la doppietta l'ultima giornata attualmente è in formissima Lautaro al contrario delle prime giornate e pallone riconquistato da parte dell'Inter sul contropiede perché lo Stellarossa si era un po' sbilanciato in questo contropiede Taremi brava a riconquistare ma bisogna dare anche i demeriti a non mi ricordo chi era no Drukosic che cavolo era che ha fatto ha perso Krunic vabbè disastroso pure Krunic ma un altro giocatore mi pare che ha perso il pallone che è stato disastroso ma non ricordo il nome non mi ricordo il nome forse forse proprio Helsic Helsic forse comunque questo pallone riconquista bravo Taremi a riconquistare il pallone con un rimpallo però bravo bravo a rubagli il pallone serve perfettamente a Lautaro che dentro l'area non sbaglia il gol del 3 a 0 e poi nel finale anche la ciliegina lo sfizio del gol se lo appunto se lo regala si regala questo diciamo 4 a 0 appunto medi Taremi perché è stato dopo che aveva fatto due assist arriva anche il gol il primo gol con la maglia nera azzurra oltre a aver segnato nell'amichevoli però in una gara ufficiale questo è il primo gol con la maglia nera azzurra tra l'altro si dimostra anche glaciale dal dischetto perché lo calcia benissimo penso che dopo Ciaranoglu il rigorista potrebbe essere uno tra Remy o Lautaro credo che Lautaro oggi l'abbia fatto tirare ma non lo so mica perché comunque lui è un rigorista è un ottimo rigorista quindi potrebbe anche essere lui il vice Ciaranoglu dal dischetto quando non c'è Ciaranoglu c'è lui potrebbe battergli lui calci di rigore comunque bravo freddo gol del 4-0 e finisce la partita all'ottantesimo l'ottantunesimo la chiude l'Inter per 4-0 e finisce così con l'Inter secondo risultato secondo risultato utile consecutivo in Champions a quota attualmente quattro punti mente il rossoneri il Milan perde in trasferta contro il Bayer Leverkusen quindi si complica un po' la situazione per il Milan si mette la strada un pochettino in salita perché comunque due sconfitte con il Liverpool e con il Bayer Leverkusen è vero che ci può stare perché però comunque si complica la strada per i rossoneri mentre i nerazzurri vanno in pace e in tranquillità dritti verso le qualificazioni senza playoff quindi qualificazioni dirette fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento lasciate un mi piace se non siete iscritti iscrivetevi al giorno per tutto e noi ci vediamo un prossimo video beh ragazzi a domani iscrivetevi e ciao belli